Abbattere i confini tra sogno e realtà per rappresentare i colori dell'infinito in mostra a Roma Palazzo della Cancelleria, la sede Vaticana dei Tribunali della Curia Romana, autore Luigi Tosti, poeta, fotografo, artista, protagonista delle 40 opere esposte la parola della Sacra Scrittura. La realtà c'è perché la mia tecnica di partenza è tecnica fotografica, ma giocata con molta creatività, quindi facendo molta sperimentazione con tempi più lunghi e una sovraesposizione controllata, riesco a ottenere effetti pittorici. Inaugurazione venerdì scorso, chiusura prevista domani, evento promosso dall'Associazione Tota Pulcra, con l'intento anche di raccogliere fondi destinati all'Umbria, terra di origine di Luigi Tosti, per restaurare il Sacro Tugurio di Assisi, una delle prime dimore di San Francesco, lesionata dagli ultimi terremoti. Un lavoro abbastanza importante, quindi noi diamo il primo contributo e poi vedremo, speriamo di poter proseguire con altre iniziative.